ciao a tutti e bentornati a crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici e cioè marco e champier e clara campi ciao a tutti ciao a tutti adesso come ormai è la nostra tradizione iniziamo con le capsule estive cosa sono le capsule puntate normalissime uguali a tutte le altre e che magari non andiamo oltre l'ora è sì 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 tutto qua tutto qua semplicemente sono preregistrate sono più preregistrate delle altre sì 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 anche perché appunto non andando oltre l'ora ci permette di di farne un po di più tutte insieme quindi poi tirare un po il fiato quando è l'ora di tirare il fiato esatto perché ormai siamo siamo ad agosto non lo so quando è che vai in onda siamo quasi ad agosto e agosto insomma e anche noi teniamo famiglia quindi anche noi dobbiamo fare le ferie da bravi italiani nedi quindi comunque bando alle ciance allora oggi per la capsule di oggi parliamo di una storia che in un certo senso ci avete richiesto tantissimo perché in un certo senso ve lo dico tra poco oggi parliamo del rapimento di uno scuolabus nel 1976 e allora prima di parlarvi di questo incredibile rapimento di uno scuolabus e del perché in un certo senso ci avete richiesto questa puntata dobbiamo salutare i nuovi patreon e esatto patreon lo sapete ormai tutti benissimo è un sistema in abbonamento per supportare i creator indipendenti e io e marco siamo tra i creator più indipendenti degli indipendenti quindi proprio senza di voi saremmo sotto un ponte quindi salutiamo i nostri nuovi crime stalker che è la categoria più alta di patreon e quindi accogliamo a braccia aperte il nostro patreon storico che però ha fatto l'upgrade alberto bruce e grazie alberto grazie mille del tuo supporto continuativo in questi anni ormai e grazie di avere fatto questo upgrade quindi ti aspettiamo alle nostre live poi salutiamo i nostri nuovi crime stalker appunto davide bisaccia benvenuto e ellie dickinson grazie mille ragazzi anche ellie dickinson ci supporta da tantissimo adesso ho fatto l'upgrade ma mi sa che lei si era si era tolta e adesso è rientrata comunque è sempre un upgrade chi se ne frega dei tecnicismi ma perché ho sentito il bisogno di precisare questa cosa e poi salutiamo un po di patreon i bristofili gli bristofili sono l'abbonamento medio di patreon quello che comunque ti dà accesso a tutti i contenuti extra tranne ovviamente la diretta esclusiva che quella è sulla pro crime stalker quindi benvenute anche katia mazzara giacomo filippi tania capre x giordana dimmi se lo devo pronunciare x no non lo so non lo so giordana perrica ada iuri di domenica antonio giada ed è aleno vabbè valeria d'abbraio giuli petra sofia marazzi cristian masutti bea ed eretica a cui avevamo fatto gli auguri mi sembra un po di tempo fa forse sì mi sembra di sì comunque benvenuti grazie mille per il supporto che ci state dando grazie 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 a tutti allora tempo fa noi nei nostri indizi che mettiamo su instagram per chi non lo sapesse ragazzi seguiteci su instagram crime and comedy punto podcast e noi tutti denerdì mettiamo un indizio per fare questo giochino se riuscite a indovinare quale sarà la puntata della domenica ad un certo punto per un'altra storia avevamo messo l'indizio di uno scuolabus sì e quasi tutti avevano indovinato sbagliando il caso di cui parliamo oggi esatto l'ho detto in un modo veramente convoluto allora sì allora no allora era la storia era la storia di frank black quindi abbiamo messo gli scuolabus e avete indovinato la puntata di oggi quindi per la puntata di oggi metteremo come indizio franco nero perfetto e chi riuscirà a fare questi collegamenti vincerà un premio comunque adesso buttiamoci in questa storia è una storia un po vintage come avrete capito dal titolo ve l'ho detto subito la data comunque è il 15 luglio del 1976 se vi interessa vi dico pure che era un giovedì oh adesso sto molto meglio non diciamo mai i giorni della settimana ma no io io sì ogni tanto sì ogni tanto sì quando sono utili quando sono utili in questo caso no e ci troviamo a ciao cilla che è in california sono le 4 del pomeriggio e questo bell'autobus pieno di ragazzi li sta riaccompagnando a casa ora voi vi chiederete perché ci sono dei ragazzi su uno scuolabus il 15 luglio che pure negli stati uniti sono in vacanza perché è vero che loro hanno un calendario scolastico diverso però il 15 luglio sono a casa pure loro perché questi ragazzi erano andati ad una sorta di gita estiva perché probabilmente vanno a scuola tipo centro estivo sì ah ok ok e quel giorno loro stavano appunto tornando da una gita in piscina che era organizzata dal distretto scolastico ok questi ragazzi sono di età diverse infatti sono tra i 5 anni e i 14 questo probabilmente perché la gita era non era obbligatoria no chi vuole si iscrive chi non vuole no e quindi poi hanno fatto uno scuolabus con tutti i ragazzi che partecipavano di tutte le età semplicemente l'autista dell'autobus si chiama frank edward ray detto ed quindi lo chiameremo ed quindi l'autista sta guidando questi ragazzi che hanno trascorso un pomeriggio bellissimo al parco acquatico e ad un certo punto l'autista si trova costretto a frenare perché un furgone gli sta tagliando la strada cioè c'è un furgone parcheggiato perpendicolarmente sulla strada e l'autista dice deve essere sicuramente guidato da una donna perché è il 76 quindi probabilmente è quello che ha pensato e beh c'è ovviamente ovviamente oggi non avrebbe mai detto una cosa del genere però alle 76 la battuta è riferita a quegli anni lì quindi non arrabbiatevi con me esatto ma purtroppo ed vede subito che non si tratta ahimè di una donna perché da quel furgone emergono tre uomini con dei collante in testa proprio i collante collante quindi hanno la parte che va sulle chiappe in testa e poi hanno le gambe che gli pendono certo come dei malefici roger rabbit antelitteram assolutamente sì assolutamente sì quindi escono questi tre uomini che attenzione non hanno solo i collante in faccia ma sono anche armati di pistole e fucili costringono ed a farli salire sull'autobus e a lasciare il posto di guida e a sedersi dietro a quel punto uno degli uomini prende il volante un altro si mette a controllare i bambini e li tiene proprio sotto tiro con con il fucile e un terzo scende dall'autobus e ovviamente risale sul furgone originario perché non lo potevano lasciare lì certo a questo punto monica che è la bambina più piccola presente sull'autobus a cinque anni chiede all'uomo che li sta tenendo sotto tiro scusa ma tu sei il coniglio pasquale e lui sì e lui ha detto no perché è luglio giusto a luglio obiettivamente non ha senso comunque l'autobus riparte immaginiamoci il terrore il panico di questi ragazzi ma pure di ed l'autista che ovviamente si sente responsabile di tutti questi bambini e ed e i ragazzi quelli un po più grandi quelli adolescenti cercano di tener calmi i bambini non fargli fare troppo casino perché si rendono conto che la situazione è molto delicata comunque l'autobus guida 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 e a un certo punto si infila in un campo di bambù e l'altro uomo quello che era sul sul van sul furgone sì parcheggia apre le porte di la porta dietro del furgone no e poi parcheggia proprio attaccato alla porta dell'autobus ok e gli uomini costringono i ragazzi a saltare proprio saltare non ho capito perché bisognasse saltare per non lasciare le impronte nel campo di bambù a saltare dall'autobus dentro al furgoncino solo che sì dimmi marco no è possibile che loro hanno detto se cioè se lo facciamo così non c'è possibilità che scappino perché può darsi cioè lascia aperto uno scuolabus in un campo di bambù pieno di bambini cioè poi i bambini non li ritrovi sì poi i bambini non li riprendi più eh sì in ogni caso li fanno saltare però non vi ho detto quanti bambini c'erano su questo autobus 26 quindi più ed ci sono 27 persone non ci stanno tutte dentro un furgoncino quindi quando il furgone è pieno lo chiudono e poi tirano fuori un altro furgone che era già stato parcheggiato nel campo di bambù e ripetono l'operazione svuotando completamente lo scuolabus lasciano lì lo scuolabus e ripartono con questi due furgoni immaginiamoci il terrore dei bambini tra l'altro si tratta proprio di furgoni quindi una volta che è chiuso il portone è completamente buio fa caldo sono tutti ammassati è veramente una roba da film horror come se non bastasse i furgoni vanno 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 e continuano ad andare per ore per l'esattezza 11 ore senza fare soste minchia 11 ore sono tanti cioè ora voglio dire per arrivare da milano a pari ce ne vogliono meno infatti ma lo sappiamo come sono gli americani certo e quindi i furgoni si può dire che van 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 comunque appunto come dicevo è buio fa caldo dentro questi furgoni i bambini non hanno acqua non hanno cibo e non c'è un gabinetto e alcuni di questi bambini vomitano qualcuno si fa la pipì addosso insomma è una situazione veramente terrificante certo sì io non mi sarei mai riuscito a tenere la pipì 11 ore ma neanche quando c'è la prostata nuova ma neanche io ma neanche io è impossibile io oltre le tre ore non vado cioè la mia vescica ha l'autonomia di tre ore fine comunque ed e i bambini più grandi tra cui spicca e spiccherà in questa storia il 14enne michael marshall fanno di tutto per cercare di tenere tranquilli questi bambini cercano di farli dormire poi vedendo che non è fattibile cercano di fargli cantare le canzoncine che si cantano sull'autobus per cercare di calmarli un attimo perché ovviamente è una situazione di isteria come è ovvio comunque passano queste 11 ore e finalmente i furgoni si fermano a questo punto i rapitori aprono il portone del furgone su cui c'è ed e fanno scendere lui poi richiudono il portellone sì e infatti infatti no perché già vedevo che la gente stava cominciando a commentare no non si chiama portone quello del furgone il portellone vabbè raga c'è adesso lo chiamo la porta la porta che è errato senti comunque tirano giù ed e i bambini che erano su quel furgone perché chiaramente ricordiamoci ci sono due furgoni vanno ancora più in crisi dopo un po viene riaperto il portellone e i questi tre rapitori tirano giù un altro bambino a caso e lo richiudono dopo un po lo riaprono tirano giù un altro bambino a caso e lo richiudono una roba da film horror e certo soprattutto se sei uno di questi bambini che aspetta dentro ma certo che non sai che fine stanno facendo quelli che stanno tirati fuori uno alla volta comunque ed è stato il primo ad essere stato tirato fuori dal furgone la cosa che gli viene fatta è che lo costringono a togliersi le scarpe e i pantaloni e poi lo costringono a scendere in un enorme buco nel terreno con una scala a pioli no è un film horror ragazzi quindi lui deve c'è questo buco che in realtà è quadrato perché è tipo una scatola nel terreno poi metto la foto su instagram perché c'è quindi c'è una scala a pioli quindi lui ha dovuto scendere in questo buco e poi entrare in un rimorchio da tir che era sottoterra c'è tipo una specie di bunker però era il rimorchio di un tir sotterrato mi pare un piano abbastanza articolato questo cioè articolato e anche abbastanza dispendioso perché due furgoni rimorchio di un tir seppellire un rimorchio cioè fai anche fatica assolutamente sì ma poi vedremo quanto tempo ci hanno impiegato per lavorare questo piano comunque questo è quello che succede ed è quello che succederà uno a uno ad ogni bambino ai bambini cioè quando vengono presi prima gli viene chiesto il nome l'età e il loro indirizzo i rapitori segnano questi dati su un foglio e poi prendono un capo di abbigliamento ad ogni bambino di solito prendono una scarpa un cappellino una roba del genere e poi li mandano anche loro uno a uno in questo bunker chiamiamolo bunker allora in questo in questo bunker appunto in questo trailer possiamo dire in corrispondenza delle ruote ok perché sarebbe il rimorchio di un tir certo sono le ruote in corrispondenza delle ruote questi hanno montato due scatole con un buco da usare tipo gabinetti ci sono le foto anche di sta roba e poi c'è un tubo che dall'alto fa passare l'aria per fare in modo che non soffochino e poi dentro questo rimorchio c'è acqua c'è cibo in realtà acqua cibo c'è abbastanza acqua e cibo per far mangiare e bere tutti per circa un giorno non di più ok ok questa è la bella cosa che mi spaventa di più cioè nel senso può anche darti speranza però eh eh sì sì io la vedo un po' pessimistica la cosa cioè mi hai fatto scendere in un buco mamma mia dentro lì la vedo la vedo un po' pessimistica la cosa però va bene ma come cazzo le pensano queste cose e poi dato che è buio ci sono anche le torce elettriche così possono vedere una volta mandati tutti i bambini nel bunker cosa fanno i rapitori tolgono la scala a pioli e coprono questo buco quadrato con una lamiera che poi viene ricoperta con delle batterie per camion che a quanto pare sono molto pesanti sì la batteria tipo quella della macchina però quella del camion deduco sia più grossa non lo so non lo so sì sì e sono molto pesanti sì e poi ricoperto con della terra e poi i bambini racconteranno di essersi sentiti sepolti vivi ma se i bambini sta fantasia che hanno incredibile ora io lo so che tanti ci dite ah non voglio sentire le storie con i bambini però l'ultima frase che ho detto dovrebbe darvi un po' di ottimismo perché se i bambini lo racconteranno certo allora per que per quelli a cui da fastidio quando si parla di bambini così pensate che tutti questi qui sono cucciolotti di gatto o di cane allora molto meglio sì per quelli a cui da fastidio che siano cucciolotti pensate ai bambini vabbè sono bambini comunque comunque è successa tutta sta roba assurda marco ma perché e infatti allora ci deve essere dietro una roba molto importante perché comunque il piano messo in atto così come dicevo prima mi sembra molto dispendioso e anche molto articolato cioè voglio dire seppellire un rimorchio di un camion non è che lo fai in 20 minuti cioè una roba che io non riuscire a stargli dietro eh no no mi perderei da subito tra l'altro assomiglia un po' al finale di ispettore callaghan il caso scorpio tuo non l'ho visto scusa no 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 vabbè quello allora in inglese dirty harry mi pare che sia del 70 71 quello ispirato allora so qual è ok non sapevo molti ma ispettore callaghan in italiano sì perché lui sarebbe harry callaghan in inglese è dirty harry no sì e in italiano è stato tradotto ovviamente pedissequamente ispettore callaghan il caso scorpio tuo perché è ispirato alla vicenda di zodiac e quindi zodiac scorpio ovviamente e c'è questa lotta tra virgolette tra l'ispettore callaghan e scorpio in cui a un certo punto scorpio viene mandato all'ospedale da da call lo fa apposta a farsi pensare da callaghan no in modo poi da chiedere la protezione no e quindi dire non fatelo avvicinare eccetera quando questo scorpio esce dall'ospedale che è il killer del film ruba un autobus però ce ne sono di meno di bambini ce saranno forse dentro adesso non mi ricordo bene che l'ho visto un po di anni fa perché appunto zodiac diceva io sparerò alle ruote dell'autobus e poi sparerò tutti i bambini uno per uno quando scendono eccetera questa cosa qui è ispirata appunto a quella roba scritta lì da zodiac e quindi lui ruba uno scuolabus con dentro dei bambini e poi entra in una grotta in una caverna per per rapirli poi ovviamente callaghan se ne frega del fatto che gli abbiano messo il divieto di avvicinamento a scorpio e quindi lo insegue e poi c'è il finale dove litigano e si danno gli schiaffi e poi vince ovviamente callaghan che gli dà gli schiaffi con la 44 magnum e di quando è sto film magari sei ispirato a sto caso e magari sì è magari sì del 76 questo è quello del film è del 70 71 è uscito proprio a ridosso delle indagini su zodiac del 70 71 quindi sì probabilmente è ispirato infatti tu lo dicevi dicevo cazzo messo stare qui me la ricordo e niente quindi da come raccontavi la storia del drappimento eccetera cioè mi veniva io c'avevo la reminiscenza del di di scorpio che 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 rappisce sto autobus scuolabus e poi si infila in una grotta con con i bambini e poi ovviamente calaghan ok quindi il film è precedente a questo fatto sì se questo qua del 76 il film è molto precedente ok e allora si sono ispirati lo garantisco perché tutto questo incredibilmente per quanto sia un piano comunque appunto molto complesso è opera di tre deficienti ma è strano perché in genere più sono deficienti più più pensano i piani in grande guarda non c'è altro modo di descriverli ora capirete perché li ho chiamati deficienti allora questi tre allora il big boss si chiama frederick newhall woods quarto perché marco perché gli americani da 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 tempo in memore non fanno figli fanno le saghe ecco allora lui detto fred però ecco una persona che ha due cognomi e poi ha un quarto a naso è uno ricco e beh certo viene da una famiglia comunque almeno antica e almeno da due famiglie antiche perché se ha due cognomi ci tengono che che mantenga i due cognomi esattamente comunque questo è il boss e poi ci sono i suoi due due tirapiedi che sono due fratelli james e richard schoenfeld penso si pronunci comunque james ha 24 anni quindi è coetaneo di fred e richard ne ha 22 tutti sti tre idioti sono rampolli di buona famiglia come stavamo dicendo in particolare fred che tra l'altro aveva intestato un bel fondo da un milione di dollari a cui però poteva accedere dopo i 25 anni giusto e allora ha detto giustamente come come posso spendere un milione di dollari comprando due furgoni non ce li aveva ancora i soldi del suo vabbè e ma non basta questo la sua famiglia aveva un patrimonio totale di oltre 100 milioni di dollari nel 76 no di dollari ma questa è una stima attuale perché poi dopo si parlerà di lui anche in tempi recenti quindi magari non erano ecco 100 milioni del 76 ma almeno 20 milioni del 76 lo erano e no che lui ha detto io ma questo fondo qua com'è che posso spenderlo no tutto insieme ma ci pago una cauzione ma infatti ma infatti quindi questo è il nostro fred viene dalla famiglia molto 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 ricca e non dovrebbe mettersi a fare ste cagate james e richard pure loro sono messi abbastanza bene non sono ricchi come fred ma sono molto benestanti perché il loro padre è un dottore tra l'altro se non sbaglio primario di podologia soldi ce li aveva questi qua han deciso che non potevano aspettare di ereditare avevano bisogno di soldi subito si dice che avessero dei debiti con degli spacciatori che cacchio di debiti puoi avere per mettere in piedi un piano del genere non so ma quello che sappiamo per certo è che loro stavano pianificando questa roba qui da oltre un anno e mezzo è un anno e mezzo che questi pianificavano di rapire uno scuolabus perché un po per avere riscatto anche se in teoria non avevano bisogno di soldi e un po per atteggiarsi a criminali perché sono tre idioti ma infatti no adesso mi verrebbe da città allora c'è cosa come si chiama c'era mica stevanin che sarà che aveva simulato tipo il suo rapimento per farsi dare i soldi poi c'è un altro rampollo di una di una famiglia molto nota italiana che serve che aveva simulato il rapimento il suo rapimento per farsi mandare tipo diecimila euro o dollari per pagare dei debiti di droga che non farò il nome però vabbè abbiamo capito di chi stai parlando però vabbè finché tu simuli il tuo rapimento ok non è il massimo perché comunque sai com'è che si dice falso allarme si procurato allarme procurato allarme queste cose qua però questi invece hanno rapito dei bambini no no ma infatti dico cioè nel senso nell'idiozia ma cioè piuttosto simulate il vostro rapimento cioè state mettendo da un anno e mezzo in piedi un piano che mi sembra abbastanza anche pericoloso molto pericoloso ma allora marco ti dirò secondo me se loro in particolare fred se fred avesse inscenato il suo stesso rapimento io ho l'impressione che suo papà non avrebbe pagato riscatto perché ho l'impressione che suo padre si fosse reso ben conto di avere un idiota come figlio certo comunque dopo aver completato questo piano quindi aver rinchiuso tutti questi bambini più l'autista dell'autobus sottoterra i rapitori dicono ok è arrivato il momento di chiamare la polizia per chiedere riscatto loro volevano un riscatto di 5 milioni di dollari questi sì 5 milioni di dollari degli anni 70 che quindi oggi sarebbero 20 a spanne quindi tanti soldi infatti il loro ragionamento era proprio questo cioè più persone rapiamo più alto può essere il riscatto se poi rapiamo dei bambini non staranno lì tanto a cercare di negoziare ci hanno i soldi e basta e certo poi i bambini sono pezzi e core però è anche luglio quindi dove cazzo rapiamo tanti bambini tutti tutti insieme a luglio e hanno scoperto che però c'era la scuola estiva e quindi li hanno beccati comunque loro devono chiamare la polizia come stavo dicendo ma a questo punto li hanno rapiti alle 4 del pomeriggio hanno guidato 11 ore tutto l'ambaradam per metterli giù a sto punto è quasi mattina quindi loro fanno il numero della polizia e le linee sono completamente intasate perché sono 11 ore che sono scomparsi 26 bambini quindi c'è giusto un po' di panico ciao cilla ma giusto un pelo c'è giusto un po' poi in 11 ore ciao cilla dove arrivi ma il bello è che sono tipo rimasti in california perché la california è enorme sono andati dall'altra parte della california comunque niente loro provano a chiamare e mi fa troppo ridere sta cosa non ci riescono perché ci sono le linee intasate e beh giustamente allora si guardano in faccia e dicono cosa facciamo andiamo a dormire giusto è ovvio e decidono di farsi questo bel sonnellino mentre questi cretini dormono i bambini restano nel bunker per oltre 12 ore ok quindi in realtà siamo in ballo da un giorno intero perché rapimento 11 ore metterli lì siamo in ballo da più di un giorno i più piccoli ovviamente sono completamente isterici fa caldo c'è una puzza incredibile perché è vero che hanno fatto sti gabinetti ma non è che c'era la fognatura c'era un buco e no certo poi sono bambini e oltretutto a questo punto non c'è più neanche niente da mangiare come se non bastasse il rimorchio in cui loro sono rinchiusi sta cedendo perché dato che era sottoterra il peso della terra sta iniziando a far sfondare il soffitto anche di questo ci sono le foto e quindi a quel punto ed e michael che è il ragazzino di 14 anni decidono di agire con loro anche più o meno tutti i ragazzi quelli un po più grandi dicono ok facciamo sta cosa e ed dirà la sua frase leggendaria che è se proprio dobbiamo morire vediamo di morire cercando di uscire da qua certo certo non l'aveste mutande poverino l'hanno lasciato in mutande perché l'eroe di cui abbiamo bisogno però in mutande anche un po raccio comunque dato che i rapitori avevano lasciato dei materassi per farli dormire così loro prendono tutti i materassi e li impilano tutti sotto il famoso buco da cui erano scesi con la scala la scalapioli e poi iniziano ad ammassare sopra i materassi tutto quello che c'era per cercare di raggiungere appunto questa lamiera che era stata messa lì e si mettono a cercare di spostare la lamiera su cui ci sono le batterie dei camion certo è figa però a forza della disperazione riescono a spostarla un po spostando la cade della terra perché poi se ti ricordi loro l'avevano ricoperta con la terra allora si mettono lì praticamente a scavare per far cadere tutta la terra finché entrano le luci del sole entra la luci del sole dal buco e quindi a quel punto si mettono lì e tirano fuori i bambini uno a uno no se li passano proprio michael e ed li spingono fuori dal buco e poi alla fine michael e ed che sono stremati a questo punto si tirano fuori uno con l'altro sono riusciti ad uscire e per fortuna non c'è traccia dei rapitori quando escono perché il loro più grande il loro più grande timore era uscire da sto buco e trovarsi davanti i rapitori incazzati armati invece non c'è un cazzo di nessuno perché quelli stanno ancora dormendo da 12 ore stanno non lo so comunque escono tutti e si guardano intorno perché sembra di essere tipo su marte in che senso infatti dicono ma che cazzo è successo dove siamo erano in una miniera in una miniera ovviamente non nei cunicoli sotto nella miniera erano nella miniera e tra l'altro era tardo pomeriggio quindi c'erano ancora gli operai che stavano lavorando e quindi passa uno di questi operai e vede 26 bambini con un uomo in mutande dice ma esattamente questa miniera che cosa dovevamo estrarre no ma lui capisce subito chi sono capisce subito che si tratta dei bambini dello scuolabus comparso perché ovviamente ne hanno parlato tutti i giornali tutti i telegiornali anche se a questo punto siamo lontani da ciao cilla siamo comunque in california quindi hanno visto tutti tutti i telegiornali che parlavano di questi bambini e quindi questo questo minatore gli va incontro e gli dice tutto il mondo vi sta cercando addirittura e ovviamente chiama la polizia allora a questo punto i bambini sono a oltre 200 chilometri da ciao cilla comunque non ci vogliono 11 ore no ma infatti allora sono andati molto piano io non lo so che io non lo so che giro hanno fatto fate conto che non c'era google maps no certo magari non lo so comunque sono oltre 200 chilometri da ciao cilla e vengono subito presi in custodata dalla polizia che li porta in centrale ovviamente questi bambini sono 26 non è che tutto sto spazio dove metterli e quindi li fanno accomodare nelle celle di sicurezza e qualcuno di questi bambini si è messo a piangere dicendo ma come adesso ci mettete anche in prigione giusto giusto ma non è che si tre cretini si sono persi cioè lo devono fare 200 chilometri si sono anche persi ma sai che io ho il dubbio perché a me queste 11 ore non mi tornano no e no beh a meno che non ti fermi cioè 200 chilometri o vai veramente pianissimo li spingi camion per far per metterci 11 o cioè no non ha senso si saranno persi non lo so guarda non ne ho idea comunque i bambini li fanno accomodare poi gli dicono no non vi stiamo mettendo in prigione vedete che non chiudiamo la cella gli danno delle mele da mangiare gli danno un po di snack da bere poi contattano i genitori i bambini vengono puliti e nutriti in attesa che arrivino i genitori allora io ho visto delle foto dei bambini con i genitori su un autobus che stavano tornando a ciao cilla quindi non ho capito bene la meccanica delle cose forse i genitori che avevano la macchina sono andati a prendere direttamente i bambini e hanno portato anche i genitori non lo so vabbè comunque alla fine arrivano i genitori a recuperarli e tutto è bene quel che finisce bene no marco cioè in realtà i bambini sono traumatizzati a vita dopo ne parliamo però sì nessuno è morto nessuno è stato male oltre certi limiti sì torniamo ai rapittori io spero che si siano svegliati a questo punto si sono svegliati e noi al giorno d'oggi appena ci svegliamo cosa facciamo prendiamo il cellulare certo negli anni 70 appena ti svegli accendi la televisione certo quindi loro accendono il televisore e scoprono che il loro piano è saltato tra l'altro mentre si stavano cercando sti bambini ovviamente era stata contattata anche l'fbi quindi non è solo la polizia di ciao cilla che sta cercando questi è l'fbi e dell'fbi c'è da aver paura eh sì quindi questi tre idioti si guardano e dicono scappiamo si danno alla fuga ognuno per conto suo perché così è più difficile beccarli unico lampo di buonsenso che hanno avuto questi da quando sono nati fino adesso comunque ovviamente i bambini sono stati trovati ma non è che l'fbi lascia perdere anzi anzi iniziano le indagini allora prendono ed intanto lo ipnotizzano perché comunque sono gli anni 70 fanno spero lo ipnotizza però aspetta marco funziona perché sotto ipnosi ed si ricorda la targa del furgone oh tantissima roba quindi controllano sta targa e a chi è intestato sto furgone è intestato a fred il genio nel piano non ha neanche pensato tipo lo rubo rubo una targa uso una targa no 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 è intestato a fred quindi a questo punto l'fbi fa due più due dice aspetta un attimo ma dov'è che abbiamo trovato questi bambini ne abbiamo trovati nella miniera di proprietà di frederick nickerson woods terzo che è il padre di fred quello che è intestato il ven si comincia a capire perché non ha fatto finti rapirsi da solo comincia a capire che forse il padre non gli avrebbe dato giustamente giustamente questo povero padre tra l'altro questo fred non era neanche incensurato perché lui aveva una bella macchia sulla fedina penale per furto d'auto quindi è per questo che non aveva rubato il furgoncino perché già gli era andata a male una volta tra l'altro quando era stato rubato la prima auto quella per cui ha avuto la macchia sulla fedina penale era segnato che questo fred aveva avuto due complici che casualmente sono i fratelli schoenfeld e quindi loro dicono che ci sono tre rapitori più o meno della stessa età questo aveva già fatto danni insieme a questi due saranno questi due vanno a controllare dalla famiglia il padre podologo dice noi i miei figli non sono tornati a casa hanno c'è in tempo zero hanno individuato i tre rapitori tra l'altro dicendo anche buon per loro perché se fossero tornati ma giustamente ma giustamente allora ovviamente l'fbi va perquisire la magione degli woods perché ricordiamoci fred non è che un po benestante è milionario e in camera sua viene trovato un interno intitolato piano e dentro c'è la descrizione minuziosa del rapimento che appunto viene programmato da ben un anno e mezzo e c'è anche scritto tanti bambini uguale tanti milioni ma c'è scritto o è stato disegnato no è scritto è scritto sì 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 comunque lo sapevano già ma questo toglie ogni dubbio rimasto no cioè ormai sanno con certezza che i rapitori sono fred richard e james inizia quindi una caccia all'uomo dopo una settimana di sta caccia all'uomo richard si costituisce volontariamente getta la spugna e quindi va a confessare pensando se mi consegno io per primo me la cavo con meno anni degli altri due settimane dopo la consegna volontaria di richard viene arrestato james che vagava in un parco della california lo stesso giorno qualche ora dopo viene arrestato anche fred il cervello di quest'operazione e che cervello lui però viene arrestato attenzione a vancouver in canada quindi effettivamente aveva fatto una fuga più efficiente degli altri cioè uno si è nascosto nel parco cioè certo prima o poi ti becca comunque li prendono tutti e tre tutti i bambini li riconoscono tramite un line up vocale il line up è quella cosa che vedete nei telefilm poliziaschi americani quando mettono il colpevole insieme ad altri ad altri figuranti e la vittima deve riconoscere chi è stato sì il line up vocale è quello dove si sente una registrazione delle voci perché loro comunque avevano queste ridicole calzamaglie no neanche calzamaglie dei collant questi ridicoli collante in faccia quindi i bambini non è che potevano proprio riconoscerli però potevano riconoscere le voci sì mi viene in mente il comico quello di zelig che io conosco anche giancarlo barbara che lui fa il rapinatore che arriva con la calzamaglia in faccia non riesce a parlare quindi dice tipo figlio di fufana sì che però non riesce a parlare quindi probabilmente anche loro non riuscivano a parlare dicevano dovete fare zitti guarda guarda non lo so però tutti i bambini ma tutti anche quelli più piccoli riconoscono perfettamente chi sono i tre quindi non c'è due cioè gli fanno sentire tante voci eh non è che li fanno sentire solo quei e tutti i bambini pescano giusto le tre voci di questi tre che quindi non possono far altro che dichiararsi colpevoli ovviamente c'è il processo per rapimento si dichiarano tutti colpevoli e vengono tutti condannati all'ergastolo però tutti e tre fanno appello dicendo una cosa che secondo me ha anche senso loro dicono sì noi abbiamo fatto questa cosa terribile siamo colpevoli ma non potete condannarci all'ergastolo fino appena mai perché nessuno è stato ferito e ho capito però e lo so ci sta secondo me sì allora dal loro punto di vista sì dal punto di vista di hai comunque rapito 27 persone di cui 26 minori di cui un tot di questi minori erano anche inferiori ai sei anni sì cioè nel senso e poi gli seppelliti in rimorchio di un camion che non è fatto per essere seppellito con sopra della terra cioè nel senso ricordiamo infatti si stava sfondando e quindi tu hai io gli avrei dato anche il tentato omicidio nel senso oltre al rapimento anche il tentato c'è quindi nel senso la cosa perché loro sono stati svegli che sono riusciti a uscire perché se 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 tu fossi stato meno cretino e non gli avessi dato neanche la possibilità di uscire questi qui sarebbero morti lì dentro cioè soprattutto perché tu vai a letto e dice vabbè tanto chiamerò domani la polizia una roba ridicolissima comunque loro riescono a fare appello effettivamente questa cosa per il giudice per il giudice a senso e quindi restano condannati all'ergastolo ma non è più fine pena mai anche per via della loro giovane età viene fatta questa decisione quindi ergastolo ma con possibilità di uscita dopo un tot allora richard che se vi ricordate oltre a essere il più giovane ai tempi del fattaccio da 22 anni e anche quello che si era consegnato volontariamente riuscirà ad uscire di galera nel 2012 quindi comunque ci è rimasto tantissimo è il primo ad uscire dal 76 al 2012 un altro cioè esci è un altro mondo eh ma sì ma c'è nel 76 ma anche se avevi conto aveva 18 anni 22 ah no giusto 22 no 76 96 2006 sono sono quasi 40 cioè sono 38 anni 34 anni sì ma vedi ma vedi quello che dico cioè in Italia ammazzi qualcuno vent'anni e sei fuori no sì cioè qui alla fine non è morto nessuno non sto dicendo che non fosse una cosa gravissima però sì sì vabbè comunque lui riesce ad uscire nel 2012 James suo fratello potrà uscire nel 2015 ok questo perché lui non si era consegnato quindi gli è andato degli anni in più Fred non riesce ad uscire perché gli viene negata la libertà condizionale ben 19 volte per cattiva condotta lui faceva contrabbando di cellulare in carcere contrabbando di pornografia poi era comunque un imprenditore perché gestiva le aziende dal carcere però senza richiedere i permessi necessari quindi ogni volta che si presenta per l'uscita gli dicono di no dopo 19 rifiuti al ventesimo gli dicono senti facciamo l'uscire e lui uscirà nel 2022 è appena uscito sì sì finalmente riuscito ad uscire perché o gliel'hanno 19 volte gli hanno detto di no alla ventesima hanno detto raga forse abbiamo rotto qualsiasi record sì sì richieste di uscita oppure le ha presi lui per esasperazione guarda non lo so però al momento è fuori c'ha la sua età ma mi sa che c'ha ancora i soldi perché io suo padre non voleva che l'ereditasse però alla fine lui aveva i suoi soldi perché poi al compiere dei 25 anni aveva accesso a questo milione a prescindere si è messo a fare aziende cose insomma è uscito si ha buttato via tutta la sua vita in carcere chiaramente e sì sì e questa è la storia dei tre rapitori chiudiamo parlando un attimino dei bambini allora come dicevo nessun bambino ormai sono tutti uomini molto adulti uomini e donne molto molto adulti molto grandi comunque nessuno di loro è stato ferito però ovviamente hanno tutti riportato dei traumi più o meno gravi perché tanti l'hanno superata bene perché comunque è chiaramente un trauma perché lo è però sei anche stato l'eroe della situazione in un certo senso quindi col giusto supporto psicologico tanti sono riusciti a superarla altri no molti si sono ritrovati con problemi di droga però se mi posso permettere quella era una zona dove purtroppo tanti ragazzi avevano problemi di droga e siamo fino anni 70 inizio anni 80 quindi non sono necessariamente collegate poi chiaro cioè se è un trauma non ti aiuta no certo questo questo è ovvio comunque bene bene o male sono andati avanti con la loro vita e tutti tutti e 26 sono rimasti in contatto con Ed e sono rimasti in contatto con lui per tutta la vita tra l'altro Ed dopo questa cosa ha ricevuto un premio per il suo eroismo gli hanno fatto una parata quindi c'è proprio la parata con il carro con Ed e tutti i bambini sopra e addirittura viene istituita una giornata celebrativa a ciao cilla chiamata la giornata di Ed dei bambini oh va bene c'è stato un bel riconoscimento ma qualcuno a questo Ed gli avrà regalato dei pantaloni spero sì gliel'hanno dati subito appena appena sono andati dalla polizia gli hanno dato dei pantaloni Marco so che questa era la cosa che ti premeva ma lui tanto aveva i boxer quelli grossi che si usavano non era così esposto poi dai era luglio no ma quelli con la forma dei baci sì sì esatto no no allora che c'è nel senso la cosa drammatica secondo me è questa che tu ti trovi a fare l'eroe effettivamente diventi un eroe per tutta la California il giorno in cui sei in mutande no cioè nel senso no è per carità Marco sei l'unica persona che si è soffermata su questo dettaglio sì è vero è vero devo dire è vero è vero forse è una fissa tua comunque Ed morirà nel 2012 a 91 anni e morirà circondato da parenti amici e da molti degli ex bambini dello scuolabus e in suo onore il parco che c'è a Ciaucilla è stato rinominato Edward Ray Park e questa è la storia del rapimento del 76 una storia orribile però dai secondo me è un letto fine sì 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 alla fine sia un letto fine sì c'è il trauma ma è ovvio che c'è per carità no però io volevo tornare un attimo signor giudice al no ai tre che che li hanno rapiti allora sì un'altra cosa cioè nel senso loro hanno fatto un atto che è veramente socialmente pericoloso beh sì no cioè nel senso non è non è una cosa così banale che tu dici cioè secondo me la condanna magari non ha vita però la una condanna pesante ci ci sta anche perché se poi assolutamente non stavo dicendo una condanna leggera però dicendo che dare una condanna più lunga di certi omicidi mi sembrava fuori luogo assolutamente sì perché questi sono idioti cioè sono idioti non sono degli assassini sono dei rincoglioniti e ma sono dei rincoglioniti socialmente pericolosi perché loro cioè nel senso hanno messo giù un piano per un anno e mezzo nessuno si è fermato a pensare scusate stiamo vogliamo rapire dei bambini e seppellirli sotto terra cioè questa gente qua è veramente molto pericolosa per per la società cioè è per quello lì che che secondo me è giusto mi fa incazzare che veramente hanno buttato le loro vite cioè voi adesso qual è vero il dire il dire più bambini uguale più milioni a senso logico ma allora fate lo step successivo che è più bambini più attenzione delle forze dell'ordine più probabilità che ci becchino e se rapisci un adulto magari non gliene frega più di tanto hai rapito 26 bambini su uno scuola bus è arrivato all'fbi cioè cioè un coglione no ne hanno parlato tutti i giornali immediatamente tutte le giornali e tutto immediatamente e questi erano ricchi questi erano ricchi cioè non erano messi erano ricchi certo c'erano anche ci sono anche futili motivi assolutamente perché ora io non sto dicendo che se fossero stati poveri sarebbe andato bene perché non sarebbe andato bene comunque però non è nulla da perdere ci provi invece questi ne avevano da perdere e hanno perso degli idioti assolutamente questa è la nostra prima capsule la storia del rapimento dell'autobus di ciao cilla appunto una storia un po anomala per crime and comedy perché per fortuna non è morto nessuno certo ed è morto ma a 91 anni dopo una vita piena di soddisfazioni sì quindi ah tra l'altro ecco mi ero dimenticata una cosa marco ad un certo punto l'autobus che era stato rapito no doveva essere distrutto proprio l'autobus fisico che poi troveranno dopo in questo campo di bambù doveva essere distrutto ed ha detto no no lo voglio tenere per ricordo e se l'è messo in giardino giusto beh meno male che non abitava in un condominio allora no perché era uno ciao cilla è uno di quei paesini della california con le villettine singole che non costano tanto non sono posti lussuosi anzi perché i rapitori erano ricchi i rapiti no 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 infatti che quindi tutto più cioè di solito è il contrario no marco sì sì e infatti infatti di solito il contrario ma poi c'è ma ma che persona devi essere perché cioè a te sembra più ragionevole rapire 26 bambini piuttosto che chiedere i soldi a tuo padre che è fottutamente ricco beh ma suo padre non glieli dava cioè questo è un dato di fatto non è una giustificazione ma suo padre aveva molto il fatto che fred poi abbia fatto tutto questo fa vedere che suo padre aveva perfettamente ragione ma assolutamente i soldi non me non me li voleva dare neanche mio padre quando ero ragazzo cioè giustamente giustamente però mi è venuto adesso rapisco un bambino così poi 26 no uno sì no no però io sono uno che pensa in piccolo cioè ne rapisco uno no vabbè vabbè niente ragazzi fateci sapere cosa ne pensate di questa storia ovviamente sui nostri social che lascio dire a marco che gli piace sì sì esatto che sono allora fatecelo sapere innanzitutto sotto la puntata di spotify yes poi su spotify se volete mettete le 5 stelline poi iscrivetevi attivate la campanella così vi arrivano le notifiche quando esce la puntata esatto poi c'è anche la possibilità di commentare quindi commentate su spotify che ci dà una mano a crescere poi mettete le 5 stelle se non l'avete ancora fatto esatto e quindi dividete la puntata sui social sono le cose per supportarci gratuite che potete fare e poi ci sono i nostri social che sono cremincomedy.podcast su instagram poi c'è cremincomedy group su telegram poi c'è il sito cremincomedy.it e noi ci sentiamo settimana prossima per una nuova folgorante fantasmagorica avventura di cremincomedy dove ci saranno dei morti come al solito come al solito come al solito va bene alla prossima ragazzi ciao 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 ciao